Buon pomeriggio a tutti. Oggi è il 12 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta sullo Standard & Poor's 500. Era da un po' che non riuscivo a ritornare su questo grafico, come su quello di Bitcoin, perché il tempo è quello che è in questi giorni, in queste settimane, per cui eccoci con la centratura aggiornata sul nostro grafico a candele giornaliere. Che cosa sta succedendo? Allora, prima di tutto abbiamo un primo T più 3 che è arrivato a 76 giorni, T più 3 trimestrale che è partito qui insieme al T più 4 e al T più 5, all'annuale, e che ha fatto un primo T più 2, ovvero un primo mensile, ciclo mensile a 36 barre, e un secondo che, anche in questo caso, può essersi quasi chiuso, o chiuso, su questo minimo qua, per la ciclica evoluta, oppure deve ancora chiudersi. Attenzione, però, che anche in questo caso, siamo abbastanza fuori ai tempi massimi, anzi, ci stiamo avvicinando ai tempi massimi. Ovvero, un T più 2 che duri 40 giorni è già bello lungo, nella realtà dei fatti puoi andare fino a 43 giorni, che è l'estensione massima assoluta. Però, se andiamo ad analizzare bene l'ultima sua parte, ovvero l'ultimo T più 1, l'ultimo bisettimanale, abbiamo che l'ultimo settimanale dell'ultimo bisettimanale ha fatto una potenziale chiusura a 8 barre serena-serena, dove si è chiuso non soltanto il settimanale, il quarto T, ma anche il T più 1, e, potenzialmente, avendo un T meno 1, 1, 2, 3, 4, quasi 5 candele di un ciclo ribassista, può aver chiuso anche il T più 2, mancherebbe ancora la chiusura del T più 3. Però, andando fuori i tempi, esattamente come sugli altri mercati, ci potrebbe essere, tra un T più 3 e un T più 3, tra un trimestrale e l'altro, un raccordo. Faccio notare una cosa estremamente importante, anzi, due cose estremamente importanti. Uno, avevo segnalato qui l'Island Reversal, una figura molto potente che, messa in questo caso, riportava appunto a una discesa. Infatti, quando si è stata creata, ha creato una forte discesa con le prime due candele, ha toccato un altro minimo molto forte, andando a violare, peraltro la media mobile a 200 periodi sul grafico a candele giornaliere. Poi c'è stato un fortissimo rombalzo con volumi. Siamo ritornati su questa linea di resistenza molto forte, che non è stata violata per tre volte, successivamente ha di nuovo dato forza alla figura stessa. E quindi siamo ritornati di nuovo sulla media mobile a 50 periodi, quella più veloce. Poi, di nuovo, fortissimi volumi, ci hanno riportato su e, essendo già andati a violare varie volte i 3.181, rischiamo che questa figura venga annullata, invalidata. Peraltro, vi faccio notare che siamo appena ritornati in Golden Cross. Va confermato, ci vogliono dei giorni, ci vuole una continuazione di salite, tutto quello che si vuole. Però, che cosa mi aspetto anche soltanto per lunedì? Per lunedì mi aspetto che, avendo già a questo punto un inverso, che è arrivato a 4 barre, il terzo T inverso, che può essere anche serenamente il secondo T più 1, oppure un movimento a tre tempi di nuovo, in termini di primo T più 2, mensile inverso, mi aspetto rialzo, perché si vada piano piano, appunto, a chiudere il settimanale inverso, che è già diventato ribassista. Perché? Perché il massimo che avevano fatto qui a 3.184 è stato violato a 3.186, qua, con la candela di venerdì. Per cui ha vincolato tutta la rimanenza di questo ciclo, di questo terzo settimanale inverso, a ribasso ovvero i rialzi di indici. E quindi lunedì, come Sudax e come Fuzzinib, mi aspetto salita, aggiornamento dei massimi. E questo per tutta la giornata, perché la candela la vogliamo verde, ok? Non massimo e poi discesa immediata. Anche in questo caso, inizieremo ad avvicinarci alla condizione minima per la chiusura, appunto, di un settimanale inverso, e tra l'altro, da qui, da questo minimo, io inizio a segnalarlo, potremmo avere già la partenza di un nuovo T. Quindi qui, punto di domanda, un giorno, cosa sta partendo? Da questo minimo qua, che mi ha fatto già un giorno rialzo, con un T-3, so che posso lanciare solo un T-1, quindi è ancora poco come cosa. Ma intanto so già che questa struttura si separerà da questa, e potrebbe fare anche in questo caso parte di un raccordo che vada a chiudere il T più 3 trimestrale. Per cui, dato che non ce l'abbiamo fatta, chiudere il T più 3 trimestrale in maniera canonica, a meno che non sia stato chiuso, appunto, qua o qua, mi aspetto ancora di più rispetto alla tempistica di un T più 2 e di un T più 3 canonico, che mi vada a permettere di arrivare a questa chiusura stessa. Altre cose in particolare non ne abbiamo da dire, per ora, fino a che questo massimo a 3.233 rimarrà in tonso. Proveremo dopo la salita eventualmente a ridiscendere dopo la salita di lunedì. Ma in questo caso non avremo la condizione minima perché saremo arrivati soltanto a 5 candele su minimo 6, anche se i tempi qui sono più corti, esattamente come su DAX. Altro da dirci non ne abbiamo nella realtà dei fatti. Mi raccomando, ricordatevi che comunque continuiamo ad avere come base la media mobile a 50 periodi, ci si avvicina sempre poi di un rimbalzo, e che continuiamo a essere fortemente positivi perché abbiamo superato di nuovo il 78% di recupero della discesa che abbiamo avuto dal 18 di febbraio. Quindi, ragazzi, che potenza? Siamo usciti da un bear market che poteva trascinarci giù, ma se questa fosse l'inizio di un ciclo master di GAN, ne vedremo ancora delle belle. D'accordo? Vi ringrazio per l'ascolto e se avete bisogno di informazioni sulla ciclica evoluta, se volete partire da zero e desiderate appunto approfondire, basta che mandiate una mail a info come informazione info chiocciola financial market financial armor punto punto EU e avrete tutte le informazioni. Trovate anche la mail scritta sotto la descrizione dell'analisi stessa. Vi posso fornire del materiale gratuito, ma sta a voi prendere la prima decisione, ovvero volete sempre dover fare affidamento ad altri per fare trading e investire oppure volete rendervi indipendenti? perché la domanda fondamentale è che cosa volete per voi qual è il vostro obiettivo perché siete arrivati qui ad ascoltare questa analisi se volete rimanere a carta da parati fantastico non dovete fare assolutamente nulla ma se volete investire nella vostra formazione allora è il caso che si parta da zero e per bene vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata arrivederci a presto